E' appena terminata la partita tra Levi Macelleria Russo contro Levi Diego Fitness. La partita è terminata con un punteggio di 3 a 2 per Levi Macelleria Russo. Allora ragazzi, presentiamoci. Belli stesi. Mario Romano, pollice. Sesil, pollice russo. Sasi Micichea, pollice, rispo. Allora ragazzi, com'è andata la partita? A chi chiedo? A lui, a bianca. Cosa devo dire? No, fammi parlare. Allora, gli avversari modestamente erano molto forti. Perché giocavo anche io in quella squadra. Veramente, come sempre vince... Oh, è mi facile parlare? Come sempre vince il gruppo. E niente, complimenti solo agli avversari. Allora ragazzi, di voi chi ha segnato? Allora, chi dedica questi gol? Io a Fulvio, che non ho potuto giocare perché è una testa di... Lasciamo salire la parola. Una bella testa. Allora, uno a tu? No, la Fulvio. Io dedico il gol a Giorgio Spina. È una persona che non posso dire. Dedica? Dedico il mio gol a Cacciacuoti e poi è un'altra persona che lei già sa. Noi non possiamo dire no. Troppi segreti. Mariano Fontana sul campo. La prossima volta lo partiamo. Il mio gol, ovunque, il vero gol mio lo dedico a Lorenzo Picarelli, che come sempre è il mio BBH. Nonostante tutto. Giussi Russo, supporter ufficiale della squadra Levi Macelleria Russo. Accendiamo la Macelleria Russo. Ma è di sì. Allora, ancora una volta, non per fare pubblicità, però mangiate la carne da Ciro Russo, vedete? Ciro Russo. Dopo Piazza Gravina, la carne migliore di portici. Noi siamo contro i tumori, la macelleria Russo è contro i tumori. Va bene. Grazie mille.